C'è un grande calciatore e penso che l'episodio che è successo al Mondiale sia stato ormai archiviato. Per me è così, credo che per lui sarà così uguale, quindi è anche un bene che ci affrontiamo e così non si parlerà più di questa cosa ma si potrà parlare solo di calcio, quindi lo saluterò con piacere e poi quando si gioca sarà una partita di calcio come tutte le altre.